Ciao amici, oggi il video è tema Genshin Impact, un action RPG open world rilasciato il 28 settembre su PC, PS4 e mobile e che presto vedremo anche su Nintendo Switch. Questo gioco è gratis e la cosa che più adoro è il charter design e anche il combat system, anche seppure la grafica e la trama sono estremamente curati e dettagliati. È pure un gacha game e nel video che vedrete, vedete quello che abbiamo fatto ieri sera in live sul sito Viola per pullare un personaggio che volevo trovare a tutti i costi, Child. Quello che vedrete non ve lo spoilerò, chissà se l'avrò trovato, lascio a voi scoprirlo. Voi di Youtube, state giocando a Genshin? Vi sta piacendo? Avete pullato qualche Net5? Fatemelo sapere, vi invito sempre a seguirmi sul sito Viola dove sono in live il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera con Genshin e tanti altri giochi. Io vi aspetto, vi mando un bacio e a presto! Sì, forza! Forza! Spamme di emoticon e la tiro! Oddio, panico! E pigliamela! Sì, ragazzi, pigliamela! C'ho anche il portafortuna qua al braccio! Speriamo porti bene! Sono sempre cotta e grigia, ma non posso essere mangiata! Cruda non esisto! Ma di cosa stiamo parlando? Ok, ragazzi, proviamo! 3, 2, 1, vai! Sì! Viola! Però preghiamosi a Niguang! Preghiamosi a Niguang, vi prego! Oddio, panico, ansia! Quando lo vedo fai dagli altri, chi se ne frega! No, era il libro... No, 3 stelle, ok, pensavo... Ah, Beidu! Ok, io volevo Niguang, però sono contenta! A me non mi mancava! Dai, forza! Magari c'è anche Niguang insieme, sarebbe bellissimo! O Jonah, magari due insieme! O sono tutti archetti, maledetti, fa anche rima! Oddio, panico! Mi sa che sono finite con questa! No, questa è l'ultima! Ok, Beidu! Ok, abbiamo indovinato... Cioè, qualcuno ha indovinato di voi ed è Beidu! Ok, abbiamo fatto la nostra prima pool! Qua posso andare a prendere degli altri Stardust che potrei utilizzare subito, almeno ci togliamo il pensiero che non ci debba tornare lì a prenderli. Comunque, allora, abbiamo trovato Beidu, ragazzi! Qualcuno di voi l'ha già beidata, come vi state trovando con lei? Apriamo il dialogo intanto su Beidu nell'ottica in cui non esca altro. Ok, possiamo pullarne un altro di questi, ce lo prendiamo, non scherziamo. Allora, ora pulliamo anche la seconda. Prendi la tipetta d'oro, mi piacerebbe, ragazzi! Niente, un drago sposa poco e balla la breakdance, ma di cosa state parlando, ragazzi? Allora, proviamo anche con la seconda e speriamo di trovare... Ho anche Giona che è nuova, mi piacerebbe! Anche l'ho trovata e non è male Beidu, bene, sono contenta! Mi spiegava il signore Ace che è abbastanza una preferisco Fish, anche se devo dire che sono completamente diversi. La cosa bella di Beidu è che ho capito che lei praticamente assorbe con lo scudo i danni e quindi poi rilascia dei danni molto forti, quindi non sarebbe male. Cioè, buildarla, poi tenete di conto per chi gioca bene, che dal livello in 5 in poi dello Spiral Abyss o come si chiama. Ah, la Usina e Partici, quella è buona notizia questa per me, grazie di avermelo detto. Ehm... Picchiamo un'altra cosa! Comunque, servono due team da 4PG, quindi è bene buildarseli. Stavo buildando anche Razor, quindi io ho un troppo gente e troppa elettro, però insomma, vediamo. Forza! Proviamo e vediamo cosa esce da questa seconda. ragazzi, di pochissimo mi manca la terza. Ok, no, ma raga, non ci stiamo nemmeno aspirando al doro, però se dovessi vedere Ninguango o la gattina sarei molto contenta. Quindi speriamo bene. No, raga, l'arco ha 4 stelle! Era questo il 4 stelle di questa pullata, mi viene da piangere. Sono proprio sfigata io, raga, in questo gioco, mi odia. Poi tutto è spade uguali, non so se vedete. Non so se guardate che sono tutte spade identiche. Una bella lancia, un bello orb che non ci manca mai, e basta. Cioè, ragazzi, vedete questa pullata? Cioè, allora, praticamente, Frank, non commentare più se mi devi portare sfiga. Io ho guardato le pull di tutti i miei amici e è andata a tutti meglio che a me. Cioè, ci rendiamo conto. Comunque posso prendere l'ultima e effettivamente fare l'ultima pull da 10 e poi basta. E niente, ragazzi, si vede che non è destino che io prenda le cose che voglio. Peccato. No, stavo facendo una foto. No! Forse è destino, ragazzi. Forse è destino, proprio perché ho fatto sta cosa che doveva succedere, raga. Facciamolo in volo. Potrebbe essere tipo la svolta. Ti sembra di rivedere i tuoi pull? Io ho predictato. Ragazzi, predictate bene, però, non male. Ho bisogno di predictate bene. Forza. Oddio! Oddio! Raga! 5 stelle, 5 stelle, 5 stelle. Oddio, no. Non so cosa voglio sperare ci sia. Oddio! Non so se voglio andare avanti. Chi potrebbe... Cioè, sicuramente sarà il signor Tartaglia, ma se non dovesse essere, chi sarà? Oh, mio Dio, raga. Un'altra Beidu. O poteva essere Niguang. Oh, mio Dio, ragazzi. Eccolo! Sì! Oh, mio Dio, scusate, devo fare la foto, poi la devo mettere sulla storia di Instagram. Permettetemi questo momento. Raga, l'ho trovato! Ovviamente, non me l'aspettavo la terza pull. Ragazzi, ma Tartaglia è bruttissimo. Io continuerò a chiamarlo Shilde. Comunque, benvenuto in team, signorino. No, ragazzi, happiness. Dovevo dire che se trovavo un 5 stelle, qualcuno doveva regalare una sub. L'ho fatto tardi. Comunque, non voglio schippare da questa immagine che mi piace troppo. Sono contentissima. Che bello! Ora, se la Samy è ancora presente, siamo sorelline di coso, come si chiama? Non mi ricordo già più nulla. Di Shilde. Che avevo detto, qualcuno l'aveva predictato, è vero. Me l'aveva detto oggi, il signor Celesis. Andiamo avanti. Se dovesse... Vi immaginate se c'è anche Niguang subito dopo? Cioè, mi metterei a piangere. Non succederà mai. E nemmeno la gattina è uscita. Però abbiamo trovato il signore Tartaglia. Quindi, niente, ci accontentiamo così. Ciao, Neo, buonasera. Non so se mi rimane i punti cd per una singola pull ancora. Eccolo qua! Eccolo qua! Ragazzi, sono molto contenta. Non me lo aspettavo. Posso fare un'altra pull. La facciamo sempre su questo banner, sperando sia Viola e che escano uno dei due. Sarei molto contenta, sinceramente. Proviamo e stiamo a vedere. Adesso un altro Tartaglia, vi immaginate? No, grazie. Viola! Viola! Zitti, Niguang! Niguang! Non ci posso credere! Ragazzi! Sull'ultima pull... Devo farla fatto anche a questo, scusate. Perché queste cose purtroppo poi le posto perché mi diverto. No, ragazzi. Non poteva andare meglio di così. Gli ho trovati quasi tutti. Manca solo gattino. Bellissimo. Non poteva anche a qui. Vorrei parte della più se attaquеля. lass'un pc vu ذ m'arradesten varia. Nasc homicide. Manca solo. All'istitore. Questo divo è di solverita. Questo divo è di qula. Ogni otra cosa. Eette. No.